Un saluto da Alfredo Iuliano, riparte la stagione calcistica del Cosenza 2009-2010, c'era grande allegria oggi al cinema Citrigno nel presentare il nuovo organico, giocatori nuovi che sono stati annunciati nella presentazione e sopra un bello a parterre da Gabriele Carchidi che solitamente è l'annunciatore ufficiale del Cosenza o delle formazioni del Cosenza quando il Cosenza scende in campo al San Vito. Presenta ovviamente tutta la società con il neopresidente del soverizio Rosso Blu Carnevale, l'amministratore delegato Chianello, l'ex presidente Parete e naturalmente il direttore generale Massimiliano Mirabelli. Vediamoci questa presentazione di calciatori come abbiamo detto vecchi e nuovi e con l'ammonimento finale di Massimiliano Mirabelli, ma ce lo riserviamo in chiusura della nostra presentazione. Quindi il Cosenza 2009-2010 ai nastri di partenza prima del ritiro di Spoleto, ormai un ritiro che ha sempre portato fortuna alla squadra Rosso Blu. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.